Questo fatto di anticipare le giocate, lui sa già dove mettere la palla, ogni partito, ogni giocata, è come se fosse un film già visto. Il genio è impossibile da catalogare, più o meno come il ruolo di Francesco Totti. Si può provare con qualche aggettivo, dal meraviglioso in su, per descrivere il suo gioco e le sue giocate. E' il momento del capitano, del nostro capitano, del titolo di Roma, del gladiatore Zalorotto, del bimbo de oro, con il numero 10, facetto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti